La sostenibilità in Italia fa rima con innovazione, qualità, bellezza, è vero in tutti i settori e è vero in particolare nell'edilizia, è un settore molto importante dal punto di vista della sostenibilità, non solo perché la qualità delle nostre città è nei cromosomi del nostro paese, ma anche perché nell'edilizia, negli edifici si concentrano anche dei problemi grandi, nel senso che un terzo delle nostre emissioni, una parte importante, per esempio del consumo di metano, è legato proprio all'abitare, agli edifici, alla possibilità di utilizzare non solo le fonti rinnovabili, ma anche l'efficienza energetica, il risparmio energetico, l'innovazione, i nuovi materiali. Questa è la sfida e come spesso capita, se uno guarda l'Italia con occhi non pigri, come abbiamo fatto noi in questo rapporto che racconta 100 storie, trovi tante esperienze nelle università, nelle imprese, nella società, nella ricerca, che ci parlano di un'Italia che c'è, ma che può preparare il futuro e, aggiungo, ci può anche aiutare a fare a meno del gas, tutto il gas in prospettiva, il gas rosso più presto ancora.